Amici dei motori, benvenuti alla seconda tappa del Rally dei Faraoni. Siamo in speciale in quella che è la tappa che porta più a sud in questo rally. Siamo in prossimità della città di Dakla, dove tra l'altro ci sono dei centri storici particolarmente ricchi di storia, delle cittadine islamiche come quella di Mut. Siamo arrivati al bivacco ma la sala stampa come potete vedere è ancora vuota e quindi le classifiche non sono ancora uscite. Ufficiosamente vi possiamo però anticipare che nelle moto è stato Depré a spuntare il crono più veloce nella giornata di oggi davanti a Lopez, mentre nelle auto è stato Pelisset il migliore dei 19 partenti. Amici dei motori, benvenuti alla quarta tappa del Rally dei Faraoni. Siamo ad Abu Mingar e tutto è pronto per la partenza della prima speciale che è questa volta una sorta di gran premio con partenza in linea prima per le moto e poi per le auto. Ma intanto vi dobbiamo dare un aggiornamento per quanto riguarda la classifica d'arrivo della terza tappa di ieri. Amici dei motori, benvenuti a Keep in Touch, il programma nato per mantenere un contatto proprio con voi. Sono tantissime le email che ci arrivano e ne approfitto per ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica che potete vedere in sovraimpressione. Noi siamo pronti per rispondere alle vostre domande, potete indirizzarci quesiti di sport, di prodotto, ma anche domande che voi vorreste rivolgere a piloti oppure anche punti interrogativi che riguardano la vostra vita di tutti i giorni come automobilisti o come motociclisti. E continuiamo a parlare di agonismo ma andiamo su quattro ruote con la prossima email che ci fornisce lo spunto per parlare di un campionato particolarmente interessante. Vespa S diventa Vespa College con queste colorazioni nuove, molto giovanili, molto primaverili, ma che richiamano comunque le colorazioni con cui Vespa ha iniziato con questo azzurrino un po' classico. Amici dei motori, siamo a Palma di Mallorca perché è su queste strade che proveremo la nuova nata in casa Honda. Si tratta della CBF 1000, seconda versione, seconda generazione di questa moto che è nata nel 2006. Oggi a fuori pista estate parliamo di FIA GT e in particolare avvicinamento alla 24 ore di Spa. Avremo ospite in studio il due volte campione del mondo del FIA GT, Thomas Biagi. Dopo la sigla. Bentornati con le immagini a Nuvolari Live. Siamo in diretta dal tracciato di Vallelunga e tutto è pronto per la Radical Trophy. In vetture schierate alle mie spalle in griglia di partenza, il quinto dei sei appuntamenti stagionali, il prossimo e ultimo round sarà Adria, ma anche qui naturalmente due manche come da regolamento, quindi i giochi stanno appena per iniziare. Siamo in griglia di partenza per la prima delle gare che seguiremo in diretta oggi. Un lungo pomeriggio fino appunto alle 18.10 di oggi, quindi sarà una lunga giornata da trascorrere insieme. apriamo con la Seat Ibiza Cupra Cup, nuova formula, tra l'altro quest'anno abbiamo due manche in una giornata. Quanti anni hai? No. Da quanto tempo con Ringkart? Sei anni. Hai cominciato da piccolissimo? Tre anni e otto mesi. Bravissimo, complimenti allora, in bocca al lupo per la continuazione. Allora, chiudiamo qui questo nostro collegamento in diretta da Castelnuovo Berardenga, vi ringraziamo per essere stati con noi, continuate a seguire Nuvolari Live perché tra pochissimo, dopo la pubblicità, partirà l'italiano GT Gara 2 da Imola. Noi con il kart ci ritroviamo invece il primo di settembre con l'appuntamento da Battipaglia. Buona continuazione su Nuvolari, ciao!